Impianti Tissue chiave in mano Acelli, quali sono i vantaggi? La strategia di Acelli Paper si basa sull'offerta di soluzioni all'avanguardia nel mercato del Tissue. Il core business aziendale è lo sviluppo e la realizzazione di impianti chiave in mano, un processo che inizia dallo studio degli obiettivi del cliente e dalla valutazione delle migliori soluzioni tecniche disponibili. Per finire, alla progettazione di dettaglio di tutte le fasi del processo produttivo. L'offerta di Acelli Paper comprende soluzioni ad elevato risparmio energetico per la preparazione dell'impasto a partire dalla fibra vergine o da altre materie prime. Macchina Tissue Ideal, prodotto consolidato e completo di tecnologie innovative come lo Yankee senza saldature strutturali ed una shoe press semplicemente preumatica ma profilante. Ribobinatrice E-WIND, prodotto riconosciuto in tutto il mondo per l'affidabilità e le performance. Soluzioni R-Way per la movimentazione automatica di materie prime, per l'imballaggio e per la gestione delle bobine finite. Tutto questo collegato da una piattaforma unica di gestione digitale intelligente sviluppata dalla nostra divisione Xtreme Automation. Un progetto chiave in mano diventa un progetto industriale di successo se viene seguito da personale qualificato, sia durante l'ingegneria ma soprattutto durante la messa in servizio e l'ottimizzazione. È qui che i nostri colleghi di Acelli Paper fanno differenza. Acelli Paper, un unico fornitore, innumerevoli vantaggi. Amore. Amore. Grazie a tutti.